Un saluto a tutti della redazione di Rossini TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo i nostri contatti al quale potete inviare le vostre segnalazioni. Qua in sovraimpressione trovate il numero di WhatsApp oppure la mail di redazione Vallefoglia, chiozzalrossinitv.it. Ma iniziamo subito con la prima notizia e non potevamo non iniziare parlando delle 25 novembre, ovvero della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A Montelabate, infatti, proprio per questo motivo è stato organizzato un corso di autodifesa per cercare di dire stop alla violenza di genere. Vediamo il servizio. Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, istituita nel 1999. È importante ribadirlo oggi, ma anche tutti i giorni dell'anno, per dare uno schiaffo definitivo a questa forma di violenza. Sì, anche quest'anno il Comune di Montelabate ha deciso di pitturare e dipingere una panchina di colore rossa che verrà posizionata nella piazza 25 Aprile ad Apsella e quest'anno, oltre ad aggiungerci una scritta proprio per la tutela delle persone, delle donne che vengono brutalmente uccise, abbiamo inserito il numero, il 1522, il numero da chiamare, l'antiviolenza sulle donne. Questo argomento ci sta molto a cuore, sia a me che all'assessore Pensierini Ramona, assessore Pari Opportunità, perché è un dato di ieri che nel 2021 sono state uccise più di cento donne. Questo vuol dire una ogni tre giorni e mezzo. È un dato improponibile, allarmante e quello che voglio sottolineare, a parte l'importanza dell'istituzione di questa giornata e l'importanza di chiamare il numero, è quella di non abbassare mai la testa, di ribellarsi e di non avere paura perché le persone che sono sottoposte a queste violenze hanno paura perché pensano di essere sole. In realtà non lo sono, ci sono le forze dell'ordine che sono ben disposte ad accettare, ad accogliere qualunque denuncia, ci sono le associazioni che sono preparate per l'accoglienza e la tutela di queste persone e poi ci sono i sindaci come me che potete fermarmi per strada e chiedermi aiuto. Io sicuramente non mi girerò e non mi volterò dall'altra parte. Ha organizzato il Comune di Montelabate anche un corso di autodifesa, giusto? Sì, abbiamo organizzato un corso di autodifesa insieme in collaborazione con il maestro Mennella che ha prestato, insomma lui è maestro di arti marziali, quindi ci ha chiesto la palestra che noi ben volentieri le abbiamo concesse e quindi le persone possono iscriversi e partecipare a questo corso. Sappiamo che è una goccia nel mare perché comunque è vero che non è sufficiente partecipare un giorno solo, però è un input ed è un messaggio forte e chiaro che vogliamo dare alla popolazione, in questo caso alla cerchia femminile, che noi ci siamo e siamo vicini a queste donne. Non solo Montelabate però ma anche altri comuni come Vallefoglia e Tavuglia hanno celebrato la giornata del 25 aprile per l'eliminazione della violenza sulle donne. Il Comune di Vallefoglia infatti per la serata di giovedì ha disposto di illuminare di rosso la facciata della sede municipale di Palazzo Mamiani a Sant'Angelo in Lizzola come segno di adesione e di partecipazione all'iniziativa. E inoltre in programma per mercoledì 1 dicembre alle ore 18 un incontro all'hotel Blu Arena di Montecchio dove si tratteranno le nuove norme di violenza di genere attraverso media e social. Il Comune di Tavuglia invece, sempre per la serata di giovedì, ha organizzato in sala delle Cassero un dialogo con le operatrici del centro antiviolenza di Pesaro per dare voce a ciò che rappresenta la violenza stessa. L'iniziativa, volta a sensibilizzare ulteriormente sulla delicata tematica, è stata arricchita dalle letture di Alessandra Mazzetti e dalle canto di Michela Pacassoni. E ora cambiamo completamente argomento e parliamo di integrazione dei servizi pubblici per migranti. Nella giornata di martedì infatti è stato presentato il progetto EMMA, un'iniziativa ideata dall'Ognuna dei Comuni Pian del Bruscolo, volta a migliorare il coinvolgimento delle persone immigrate nelle diverse attività del territorio. Sindaco, presentazione oggi del progetto EMMA ci può spiegare in che cosa consiste? Consiste in un finanziamento di circa 300 mila euro del Ministero degli Interni per l'inclusione sociale e l'educazione diciamo a comportamenti civici importanti perché questo è un territorio quello dell'Unione ma in particolar modo qui dove siamo di questi comuni che fanno parte dell'Unione più periferici alla città di Pesero hanno avuto in questi anni una quantità di immigrati molti dei quali sono nati qua, immigrati dall'Italia, immigrati dall'Europa e dal mondo e quindi la coesione, la inclusione sociale, l'interculturalità, l'interreligiosità cioè la capacità di mettere insieme e di farla diventare una comunità di una città che oramai è di un territorio che ha le caratteristiche delle grandi città del mondo. Quindi diciamo formare le persone per modo di dire nel senso che voglio dire le scuole, i funzionari delle strutture, degli enti locali, delle aziende sanitarie, tutto quello che è pubblica amministrazione ma io direi anche nel rapporto col privato. EMA è questo progetto importante di inclusione, di coesione e c'è anche la struttura qui logistica dentro la sede dell'Unione contro le discriminazioni e le discriminazioni di ogni genere. Quali sono gli interventi che sono previsti per questo progetto? Abbiamo contattato innanzitutto le scuole per capire se realmente ci fosse questo bisogno e chiaramente le scuole ci hanno subito detto sì perché chiaramente avendo dei numeri abbastanza importanti in ogni classe non è facile per gli insegnanti dare quell'aiuto e quell'attenzione in più ai bambini che chiaramente conoscono di meno la lingua o che comunque conoscendo la lingua a casa non trovano poi un aiuto reale da parte dei genitori che molte volte non parlano italiano. E quindi c'è stato veramente grandissimo entusiasmo da parte delle scuole. Le scuole hanno già trovato e parlato con le famiglie che hanno più bisogno e quindi noi siamo proprio pronti anzi le scuole tutti i giorni ci chiamano per chiederci quando inizierà questo progetto di aiuto compiti. Noi adesso ci siamo focalizzati perché ripeto avendo pochissime ore da dedicare abbiamo pensato più alla scuola primaria ma poteva essere anche una risposta per le scuole medie. Poi sono stati gli insegnanti che hanno focalizzato l'attenzione particolarmente sulle primarie. E torniamo adesso a parlare delle territorie di Montelabate visto che nella mattinata di domenica 21 novembre alle ore 11 in concomitanza con la festa dell'albero è andato in scena l'evento Un albero ad ogni nato. La cerimonia svoltasi in via Kennedy al Parco Albanesi prevedeva la donazione di un albero per ogni nato nell'anno 2020 residente a Montelabate e di conseguenza l'amministrazione ha provveduto a piantare per l'occasione sette nuovi alberelli. Cambiamo l'argomento parlando di vaccini visto che sta proseguendo con grande successo il lettore delle camper vaccinale che nella giornata di lunedì dalle ore 9 alle 13 farà tappa proprio a Montelabate. Il leveicolo che sosterà ai lati della biblioteca e della struttura della protezione civile in via Kennedy darà la possibilità a chiunque si prenoterà di potersi sottoporre alla vaccinazione. Sarà possibile infatti per tutti i cittadini e residenti ottenere i richiami di seconda o terza dose ma anche la prima inoculazione per chi ancora non si fosse vaccinato. E iniziamo ad aprire la pagina sportiva. Questa volta vi raccontiamo della storia di Valentina Marra, giovane pusile pesarese già campionessa europea che sogna le prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Un obiettivo sostenuto da Otello Battistelli, titolare dell'omonima azienda di compressori che dopo il supporto alle volle e alle calcio si amplia anche al mondo del pugilato. È tempo di ampliare i propri orizzonti per la giovane pugile pesarese Valentina Marra che nella giornata di mercoledì ha ottenuto l'importante sponsor di Battistelli Compressori. La ragazza classe 2005 ha già prematuramente ottenuto numerosi successi come i titoli di campionessa italiana Mondovì, campionessa europea in Georgia, l'argento alla Junior Nation Cup in Serbia ma anche altri premi. Valentina Marra, un giovane talento spinto da passione e determinazione. All'inizio mi colpiva, mi affascinava il fatto di menare. Quindi ero abbastanza manesca e questo sport poteva aiutarmi a placare un po' questo lato del carattere. Secondo me capire i propri limiti è fondamentale. Quindi in questo sport io riesco a capire innanzitutto i miei, a migliorarli e a superarli perché tante paure le ho sbloccate grazie a questo sport. Crescita personale, oggi sponsorizzazione di Battistelli. Quanto è importante per te per la crescita individuale, anche per una manifestazione importante come può essere l'Olimpiade? Ma secondo me è importantissima. Sarà uno dei tanti tasselli, forse tra i più importanti, che mi aiuterà a raggiungere l'obiettivo. Otello Battistelli, da dove è nata la sua idea di sponsorizzazione per questo nuovo giovane talento? Io l'avevo letto sul giornale degli articoli. C'era questa ragazza nel pugilato, voleva trovare qualcuno che dasse una mano. Poi è bello, è scappato fuori che è la figlia di un funzionario di una banca e che ho dei rapporti di lavoro. E poi è nata un po' così, insomma. Per me era una novità, anche se la boxa mi è sempre piaciuta, a me non è che... È nata un po' così, insomma, niente di... Più che altro per conoscenza, per rapporti di amicizia, insomma. Così nasce un po' questo discorso. Io, per la verità, non pensavo che si poteva sponsorizzare come fosse una squadra di pallavolo o una squadra di calcio con la scritta di... È uno che fa il seu ring con una canottiera. E poi è nata un po' di discorso, capito? Io non pensavo nemmeno che si poteva. Poi dopo l'è un po' studiata la cosa e... Beh, speriamo che... Adesso, più che altro anche per la ragazza. A Pesolo ho avuto anche altri talenti, no? Talenti che hanno fatto anche le Olimpiadi. Ma questa è una ragazzina che ha qualcosa di eccezionale. Ecco, dipende da come verrà portato avanti il lavoro programmato negli anni, diciamo. Senza ricorrere sempre il momento... Si può vincere, si può perdere nel pugilato. Però si deve costruire la casa con delle buone fondamenti. Per arrivare in cima ci vuole molta fatica e grande preparazione. E dalla box passiamo alla pallavolo. Nell'ultimo match disputato dalla Megabox Vallefoglia, perso 3-2 a Firenze, l'allenatore Fabio Bonafede, nelle corso delle quarto sette, è stato colpito da un malore. A rassicurarsi sulle sue condizioni, ora migliorate, è stato il presidente della Megabox Vallefoglia, Ivano Angeli. Grazie. 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 Grazie.